Immagini amatoriali girate da alcuni ragazzi che con scrupolo e senso civico hanno voluto documentare quanto avvenuto sotto i loro occhi. Le immagini sono eloquenti e rilevano la presenza di grandi chiazze oleose sulla superficie della fonte del fiume Ciane. Siamo all'interno della riserva naturale orientata a fiume Ciane e Saline di Siracusa. Le immagini e le foto sono state postate su un profilo social e in breve tempo hanno fatto il giro del web con relativi commenti di critica e di condanna per lo stato di abbandono in cui versa la riserva. I ragazzi che hanno realizzato il video si sono recati alla fonte Ciane e si sono subito rammaricati del fatto che mancassero tavoli e sedie e altre attrezzature che costituivano la zona picnic. Si sono poi spinti oltre notando nello specchio d'acqua contornato dalle rigogliose piante lunghe scie di sostanza inquinante che ha tracciato particolari disegni sull'acqua. Che cosa è successo? Perché hanno eliminato quelle poche strutture, hanno chiuso l'entrata del fiume e l'acqua si presenta così? Questo si chiedono gli autori del video e poi rilanciano il quesito alle istituzioni pubbliche locali, in particolare al primo cittadino anche se il quesito va opportunamente posto al libero consorzio comunale che è il proprietario della riserva naturale. Gli ambientalisti che hanno avuto modo di visionare le immagini sostengono possa trattarsi effettivamente di inquinamento dell'acqua della fonte dovuta a qualche balordo che ha sversato litri di olio esausto. Ma il vero problema posto dagli ambientalisti siracusani è che quella riserva è ormai in stato di abbandono.